Questo è Mario Party, un gioco un po' vecchietto, ma che comunque fa sempre piacere, viene sempre riproposto con delle versioni nuove, questo è l'ultimo per Switch E adesso noi quattro ci sfideremo a dei giochi che ci propone E c'è anche il tizio che sta montando l'ombrello Allora, andiamo, basta, basta quello Prima cosa, importante, scegliamo i personaggi, io Mario non lo faccio Oh, ah, ci stanno facendo lo sbloccare Che diavolo sono? Io faccio la... Ok, sono il 3 Il mio personaggio è pepito, come lui dice Rosalilla Rosalilla Io si, io no Ok La si Io a città, c'è un po' Allora, aspetta, destra... destra, sinistra destra Ma tu non fai dire che no Io sono delighted destra sinistra destra destra sinistra ma no ma va di schiagli ma no destra voca e sinistra voca e destra voca sinistra voca sinistra voca sinistra voca voca sinistra frena frena claudio questi non hanno capito e quando dico sinistra voca sinistra quando dico destra voca oh ma dico che voca sono io però ma ti ho parlare? ma io so stare stare non ti ho parlare ma il capitano siamo morti ma che? fai soffi ma bisogna soffiare vai scoppiare i palloncini più che puoi è allenamento Fede tutto pronto ve lo dici SL o SR SL o SR gli stanno semplicemente spiegando ma prementi lo so talpa e luigi ok talpa ok dai che gruppo adres aiuto è luigi guarda un po' la yoshi questo sogno uuuu guarda che botte gli vado a dire male guarda un po' la parola che è quello che non è stai aveso zero palloncini mette da verbale è ancora operativo purtroppo vai provate il secondo io non so perché ci stavano i palloncini esatto bravo spero nooo 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 grado città piu nooo ho sinistra ma non bella via 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 piano piano chiamate parca ma dopo a 8 da record mamma mia fine fine male ma che insultate? finito voto c urra urra come cazzo è urra? e poi cazzo è? urra 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 allora se ti dico testa o voca testa? ma vocare? ma non devi vocare per forza quando la parca va davanti adesso dovete vocare a sinistra quando la parca va davanti adesso vochiamo noi a destra adesso sinistra 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 nooo forse è meglio non prendere gli spallosi verticale l'ultimo accetto l'ultimo accetto l'ultimo accetto l'ultimo accetto l'ultimo accetto l'ultimo accetto che è? lancia il boomerang per riusci a prendere ok ok però è sempre mi piace fare prove mi piace fare prove sempre te devo prenderci la mano via ah ma questi sbucano la terra io gli ho una tappa al tempo tutti io ho il ciliscio proprio venga venga ah no no in mezzo no 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 bu no 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 2 si è fatto stavo sono pronti pronti a bucare buona destra buona buona no basta no 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 adesso a sinistra a sinistra c'è una cascata si si alla cascata che senti voglio dire la cascata 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 guarda che roba ora ehi ehi la cascata abbiamo quasi finito bocca 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 che questa è dura a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra c'è quello che ti spinge si si però non versi non ti fa andare indietro è impossibile prendiamolo cazzo che è? mi raccomando cadul cannot ci passano la testo è ok per ilamis incidenza adesso g via Virgiosi! Vincamina! Sei una merda sei anche tu! Sei la posto 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 posto! Quista è casa mia! Dovete andare via dalla mia cazzo sotto terra! Una mia cazzo del cazzo. Chi mi ha spinto verso il conto ? Siamo in una tappa malefica. Chi ha detto me! Dai! Un stats. Urra! ora è un rapporto non c'è colore buongate ma se ne ha voluto a testo ma è la cronistola sei tu che ti dici guarda che roba di squincio via 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 vai 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 no come si fa qualcosa ah ci fa una cosa, si sorridete? buongata no, maledetto buongata, buongata, non lo faccio a fare è davvero ce l'ha fatta, venga, credo non crede? si si si, è come a Mirabilandia buongata, buongata, buongata io sto, buongata, sono l'unico è Yoshi che non fa niente chi ti evoca? a destra o a sinistra a me mi sembra meglio a destra esatto i cartoni animali insegnano dove c'è un unicorno? dove c'è un unicorno? c'è un unicorno moriremo urrà no ha fatto visto? dai 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 e fate evocato dai 6 secondi, 6 secondi raga e poi finisce il gioco no, 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 lì c'è il più 3 e 3 fatelo ce l'hai mai evocato? no io e voi infatti non dovete evocato io non sto evocato io non sto evocato io non sto evocato si stanno evocato andiamo attenzione gamba abbiamo fatto un bel paio di chilometri abbondante dai zoom ecco la foto che va fatto era una merda quella paura si l'unico che rita è la talpa è il ragnotarpa triste no è il ragnotarpa l'unico che rita è tristezza dai rolling game e sei da questo delirio di mario pasca stai calmo bisogna dire che bisogna spoliciate poi mettere a a iscriversi al canale no commentare commentare io ho fatto fatica a capire l'altra volta clic puoi commentare clic clic qui sul canale esatto ok se siete iscritti mettete la la malellina la malellina ora vuoi finire scusate no volevo volevo dire a tod che non gliela do ahahahah arrivederci ciao 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 Grazie a tutti